bene allora la posizione sullo strumento è fondamentale soprattutto se pensiamo di suonare il cajon per diverse ore non è uno strumento comodissimo nel senso che ovviamente avere una posizione più frontale per suonare è sicuramente più più pratico invece il cajon ce l'abbiamo sotto ce l'abbiamo sotto qui ci siamo seduti sopra quindi dobbiamo trovare quella che è una posizione ergonomica e che ci permetta di suonare decongestionando la parte superiore cioè avendo una certa agilità nella parte degli arti superiori e che ci permetta di non soffrire di dolore alla schiena perché è veramente semplice suonando il cajon farsi male alla schiena quindi la cosa fondamentale per quanto riguarda la postura del cajon è proprio la posizione della schiena io ho visto tantissime persone suonare il cajon tutte ripiegate su loro stesse andare a cercare i suoni molto in basso e questo è veramente un problema per la nostra per la nostra schiena può far male dopo pochi minuti per cui la posizione giusta e corretta sul cajon è con la schiena dritta ok seduti non troppo avanti sullo strumento ma piuttosto indietro quasi tenendo gli ischi gli ischi sono queste due punte che noi abbiamo sotto sotto al sedere sono fanno parte del bacino quasi tenendo gli ischi fuori del del bordo posteriore dello strumento e facendo in modo che in maniera rilassata senza stare su con le spalle stando in maniera rilassata arriviamo con le mani ad appoggiarci qua a livello di metà della mano a questo punto qui sul bordo superiore dello strumento ok questa è la posizione schiena dritta e questa è la posizione di di partenza per poter per poter suonare il caon non è un problema questa posizione perché tutti i suoni che noi faremo sul caon e che lo capirai fra poco vengono prodotti fondamentalmente nei primi 10 15 centimetri dello strumento qua sopra andremo molto raramente in basso quasi mai ma resteremo sempre in questa parte in questa parte superiore per cui per praticare un attimo la la postura controlla di essere leggermente seduto quasi fuori dietro essere seduto soprattutto sulle cosce di avere la schiena dritta quindi il bacino in avanti portato in avanti ok avere la schiena dritta di avere le spalle rilassate e non tirate su e di fare in modo che quando le mani sono appoggiate giù arrivano diciamo a metà del palmo sul bordo dello strumento questa è la posizione corretta per poter suonare il caon non giù non piegata in questo modo ok questa è la posizione corretta guardati un po la posizione corretta e subito dopo vediamo quelli che sono i suoni fondamentali